Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi questa notizia che mi ha fatto veramente spavodire è che la soglia di pagamento adesso da 100 dollari passa a 50 dollari dopo tutti questi anni vabbè, vabbè comunque per quelli che vogliono ritirare i pagamenti sul bonifico bancario cioè facendo sul conto corrente devono avere 100 dollari da quello che ho capito e 50 dollari su Paypal ok, eccolo qua adesso è cambiato fino ad oggi credo potevano richiedere il pagamento al raggiungimento dei 100 dollari ma dal 15 luglio questa cifra verrà dimezzata e sarà dunque possibile richiedere il proprio compenso al raggiungimento dei 50 dollari e hanno detto che hanno aggiunto Giappone, Messico, Spagna adesso hanno aggiunto pure Italia perché io prima ho letto la notizia c'era scritto solamente Argentina Giappone, Messico, Spagna e beh, vabbè comunque è una bella cosa per quelli che vogliono streamare sulla piattaforma Viola questo è il mio piccolo canale quindi se vuoi seguirmi perché ho portato questo gioco che mi ha consigliato un caro abbonato un caro amico è un gioco che ti fa spappolare il cervello veramente fa male anche gli occhi sto gioco veramente troppa confusione quindi grazie a tutti per questa visione questa era la notizia grandiosa quindi da 100 passiamo a 50 dollari e niente ragazzi anche per i piccoli streamer riusciranno sicuramente ad arrivare a 50 dollari se stremmate sempre stremmate, stremmate, stremmate non vi arrendete stremmate ancora stremmate ancora noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao